Rieccoci, benvenuti a Palazzo Mezzanotte, sempre qui, sempre in diretta per affrontare temi caldi attuali del mondo del lavoro. Abbiamo avuto modo già di analizzare il ruolo dell'intelligenza artificiale in un settore come quello lavorativo che sta vivendo importanti cambiamenti e andiamo progressivamente ad analizzare altre sfaccettature del mondo del lavoro. Ora lo facciamo con i nostri speaker, i nostri ospiti. Do il benvenuto a Marco Lombardo, giornalista del giornale ed esperto in nuove tecnologie. Ben ritrovato. Do il buongiorno e benvenuto anche alla dottoressa Federica Vernero, Head of People and Culture dell'Istituto Elvetico Sanders. Buongiorno. Grazie, buongiorno. E do il ben ritrovato anche all'avvocato Luca Failla, founder dello studio legale Faillan Partners. Buongiorno. Ecco, con voi oggi affrontiamo i problemi del lavoro nel mondo che cambia perché questo è evidente. Il mondo del lavoro è oggi attraversato da un'infinità di problemi. Non può che essere così in quanto parte integrante, in qualche modo incastrato con la società e l'economia e quindi altrettanto inevitabilmente direi risente delle trasformazioni delle vicissitudini che li riguardano. Quindi in questa realtà così emutevole e anche così complessa in cui delineare i vari scenari diventa complicato, comprendere i problemi e se non risolverli quantomeno riuscire ad adattarsi si rivela fondamentale. Comincio con l'avvocato Failla, volevo analizzare in primis i dati relativi all'occupazione perché i dati appaiono in crescita eppure sono relativi. Fotografano solo una realtà parziale perché in realtà i dati relativi al lavoro, al buon lavoro direi, quello indeterminato, a tempo pieno, tutelato, sono purtroppo in calo ad aumentare invece sono i lavori precari, quelli occasionali, part time, talvolta persino in nero. Ecco, le chiedo quindi se c'è un modo per tornare a garantire maggiore sicurezze per i lavoratori o se al contrario si tratta di uno scenario di fronte al quale dobbiamo, il nostro malgrado, adattarci? Io credo e temo anche analizzando i trend degli ultimi anni insomma la tipologia contrattuale si è modificata dalla legge Biagi in avanti ma non sono le leggi che creano i buoni o i cattivi lavori, le leggi semmai possono provare a regolamentare i lavori e soprattutto a eliminare i cattivi, cioè il lavoro nero non è un lavoro, è un lavoro irregolare, va combattuto, la vicenda che abbiamo visto in questi giorni che non è una vicenda unica e isolata ma rappresenta uno specchio di realtà, ahimè su cui si fonda la nostra economia, quindi le leggi in questo senso non possono. Il mercato del lavoro è un mercato che è andato sempre più frazionandosi in questo senso, l'occupazione massiccia a tempo indeterminato per tutta la vita, lo sappiamo, non esiste più ma non esisterà più, non esisterà più, anche i rapporti di lavoro stabili, quindi tutelati, che poi sono tutelati fino a un certo punto perché comunque un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può arrivare ad una conclusione anche non voluta dal lavoratore o dalla lavoratrice, perché i trend in mercato poi sono difficilmente controllabili, non sono più, oggi noi abbiamo un lavoro precario, contratti a termine, contratti part-time non è un lavoro precario, è un lavoro che può essere a tempo indeterminato, part-time non necessariamente precario, certo bisogna capire quanto quel lavoro part-time è voluto o subito, questo è un altro discorso, però fotografano i bisogni del mercato del lavoro, cioè se il mercato del lavoro richiede quelle prestazioni e non è in grado di offrire a tutti il contratto di lavoro a tempo indeterminato, prendiamone atto perché è il trend della nostra economia, l'economia italiana funziona in quel modo, d'altronde l'economia che non cresce, il PIL esce, non cresce da anni rispetto alle economie europee, che cosa possiamo aspettarci? Le leggi non fanno i posti di lavoro, i posti di lavoro si creano solo se c'è un'economia che cresce, che crea occupazione ma perché le aziende hanno bisogno di professionalità e poi ne abbiamo già parlato in altri momenti, ci sono dei settori dove si cercano professionalità e non si trovano, ristorazione è una per tutti e ce ne sono altre tecnologie, ci sono dei settori dove ci sarebbe la possibilità anche di creare occupazione stabile ma non si trovano le persone, non si trova la professionalità, quindi questo credo che sia una cosa su cui dobbiamo, ma credo ci siamo già abituati, un conto però è la tutela, un conto è il contrasto, la illegalità, è lo sfruttamento e al lavoro povero, questo c'è tutto un tema del salario minimo o del salario povero, cioè io lavoro, ho un'occupazione ma con quella non ci campo, non arrivo alla fine del mese, è quello un problema, quindi c'è l'occupazione però con un salario che non è in grado di consentire a me o alla mia famiglia un'esistenza libera e dignitosa come dice l'articolo 36 della Costituzione, cioè questo è un problema, però la tipologia di contratti e la fine del posto fisso tutelato tutta la vita, questa è una cosa che ormai credo abbiamo imparato, ci dobbiamo fare i conti, dovremmo essere in grado con le professionalità di essere in grado noi lavoratori di essere sempre più competitivi, di essere, e quindi c'è un tema di formazione, cioè una volta uno entrava a 18 anni e usciva a 60 con la pensione non c'era neanche bisogno di formazione, certo faceva quel lavoro per tutta la vita, faceva quel lavoro o comunque era un lavoro che ti consentiva una crescita all'interno di un percorso che era già dato, entravi come commesso e finivi come direttore, oggi è follia, oggi è follia, come commesso probabilmente non entri neanche più, questo è il tema, quindi c'è un bisogno di formazione continua, perché io ogni due o tre anni se no divento obsoleto, perché c'è la tecnologia che cambia, ci sono i modelli organizzativi che cambiano, oggi viene richiesto al lavoratore anche un onere, che prima non era così necessario o scontato, di autoformazione per essere in grado di offrire un prodotto concorrenziale, altrimenti si esce dal mercato pur restendo all'interno, rimanendo all'interno dell'azienda. Sì, direi uno dei grandi cambiamenti che il mondo del lavoro attuale sta vivendo, considerando che si tratta di un mercato sempre più fluido e, come giustamente diceva, anche più competitivo. Un altro aspetto, Avvocato, sul quale volevo soffermarvi, l'ho accennato giusto poco fa, è quello del salario minimo, perché c'è chi dice che da solo non fa qualità di contraddizione, ma qual è il suo parere a riguardo? Perché il tema del salario minimo accanto al problema dei lavori precari è sicuramente centrale, è un problema serio, se ne hai parlato a lungo e anche oggi inevitabilmente ha un ruolo chiave nel mondo del lavoro. Allora, il tema del salario minimo è un temone, nel senso che è un temone. Oggi l'Italia è uno dei paesi, non sono tanti, ma qualcuno ce n'è ancora, in cui non c'è un salario fisso per legge, come invece esiste in altri paesi, in Germania, in Svizzera, in Belgio. 2.000, 3.000 euro, salario minimo. Fantastico, siamo tutti d'accordo, no? Direi di sì, direi che lo so. Siamo tutti perfettamente d'accordo. Il problema è chi li paga e dove troviamo i soldi per fare questo. Quello è. Scherzi a parte, l'Italia comunque ha un sistema di contrattazione estesa, contrattazione collettiva nazionale, siglata da Confederazioni maggiormente rappresentative, quindi CCL, CCDUI, assolutamente esteso. Quindi non è che se c'è la legge che dice quanto è il salario minimo, su cui ci potremmo accapigliare, 1.000 euro, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, poi cosa ci mettiamo dentro? La tredicesima, la quattrocesima, lo straordinario, è una discussione enorme. In realtà io credo che il tema del salario povero si è posto, la giurisprudenza del lavoro ha fatto, come dire, ha detto la sua recentemente, anche l'anno scorso siamo arrivati fino in Cassazione, però sono settori di nicchia, per esempio la vigilanza, dove si sconta il sistema della catena degli appalti. Allora il tema, io li dico, più che un salario fisso per legge, bisognerebbe chiedere alle stazioni appaltanti, cioè a chi esternalizza i servizi di guardiania, armata, non armata, di vigilanza, di controllo, di alzare magari le tariffe, in modo da consentire alle aziende che utilizzano poi il personale di pagarli un po' di più. Quindi secondo me il problema andrebbe visto un po' più largo, non è solamente perché io posso anche obbligare un'azienda a pagare di più i suoi dipendenti, il problema è che questa azienda deve trovare i soldi e quindi deve trovare qualcuno che li paga nell'ambito di un servizio, in un contratto d'appalto, e gli dà più denaro per poter pagare. Poi non stiamo parlando di Nababbi, perché poi se andiamo a vedere i bilanci di queste aziende non sono bilanci, come dire, della Gates Foundation o di Apple o di Google, stiamo parlando di bilanci. Quindi io credo che il problema, bisognerebbe guardarlo in modo molto pratico, io non sono preoccupato, il salario è governato da una contrattazione estesa, il contratto dei metalmeccanici, del commercio, delle banche, delle assicurazioni, governano in modo molto esteso e secondo me molto intelligente, frutto di una negoziazione aziende, lavoratori, organizzazioni sindacali. Ci sono settori di nicchia dove questo magari non consente di pagare dei salari importanti o adeguati, ma credo che sia un problema di mercato e bisognerebbe lavorare sul mercato. Leggevo che il Comune di Firenze qualche mese fa ha fatto una delibera per cui, nell'ambito di tutti gli appalti dove il Comune di Firenze è stazione appaltante, imporrà ai suoi appaltatori il salario minimo di 9 euro all'ora. Benissimo, significa che il Comune di Firenze pagherà per quei servizi una quota adeguata a consentire che agli appaltatori possano pagare 9 euro all'ora ai propri dipendenti è fantastico, va benissimo. Poi è un tema pratico, la coperta è quella, la tiri, ma deve essere una coperta che copre tutto, quindi io darei questa risposta molto pratica. A questo punto mi rivolgo invece alla dottoressa Vernero perché vorrei avere anche il punto di vista interno alle aziende per comprendere i problemi nel lavoro, nel mondo che cambia e lo faccio con un articolo della Fintom Post dal titolo Lo tsunami del lavoro si avvicina e noi non ci stiamo preparando. L'articolo è incentrato su una metafora particolare, ve la leggo, è come se in una fabbrica stesse suonando un allarme antincendio ma tutti stessero fermi ai loro posti. In realtà c'è un tema demografico, un anagrafico e uno di competenze. Ecco, allora le chiedo, dottoressa, qual è effettivamente il problema che al momento preoccupa maggiormente le aziende? Forse appunto il tema delle competenze o forse c'è anche altro? Allora la risposta è molteplice, nel senso che c'è un tema anagrafico, c'è un tema economico, per le aziende in particolare c'è un tema di competenze. Concentrando la vista un po' sulla situazione italiana, c'è questo momento di tempesta perfetta. La tua azienda, ma arriviamo anche da un punto di vista di fenomeno demografico. La popolazione invecchia, il tasso di natalità italiano mi sembra 4,6 per mille, quindi siamo fanalino di coda. La popolazione invecchia, quindi vuol dire che da un punto di vista di sistemi sanitari e previdenziali, la coperta, la bilancia, insomma sicuramente siamo in una situazione veramente critica. Lato azienda, questo fenomeno più demografico ha sicuramente una conseguenza in termini sia proprio di numero di occupabili o bisogno di occupazione e anche competenze. Nel senso che al di là del fatto che lo vediamo dalle statistiche, l'ultima che posso citare è il McKinsey Global Institute che ci racconta che entro il 2030 per via dell'automazione circa 300 milioni di posti di lavoro verranno spazzati via, però questo è un dato che va assolutamente interpretato. Lato azienda, io sto assistendo internamente a due fenomeni, da una parte onestamente una scarsità non solo di talenti ma proprio di forza lavoro. La popolazione invecchia, gli over 50 stanno diventando la maggior parte della popolazione, l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani è un ingresso su cui il sistema educativo, magari questo lo tocchiamo dopo, non è così pronto a preparare questo tipo di professionalità. Dall'altra parte, se guardiamo quelle che poi sono le statistiche anche dei nostri bollettini lavoro italiani, assistiamo già adesso ad un fenomeno per cui l'ultima statistica di giugno è il 48% delle posizioni di lavoro nel 2023 non era coperto da personale adeguato. Quindi c'è un tema di numero e c'è un tema di competenze. Lato competenze, questo 48% rappresenta una statistica proprio di mismatch, di skill. Da un punto di vista interno, le aziende non stanno a guardare, stanno reagendo. Chiaramente il tessuto economico dell'Italia è una costellazione di piccola e media impresa per cui citiamo spesso ed è giusto ricordarlo gli esempi positivi delle multinazionali, anche italiane. È un tessuto però fatto da piccole e medie imprese con un mindset, un approccio culturale al lavoro sicuramente da far crescere perché in questo senso con tutto quello che abbiamo detto, popolazione che invecchia, skill mismatch, quello che diceva l'avvocato Failla prima che molto giusto, non sviluppo delle capacità di imparare dei lavoratori, cioè al lavoratore oggi è chiesto di reimparare e imparare, non è una skill così presente sul mercato del lavoro e tutto questo crea nelle aziende sicuramente un fenomeno di reazione. Quindi sto assistendo e assistiamo tutti effettivamente ad un momento un po' proattivo delle aziende, stanno nascendo anche tante, ritornando anche le scuole di mestiere, delle alleanze interessanti tra pubblico e privato, un po' per contrastare anche un po' la carenza della formazione professionale, sicuramente non basta. Non basta perché da un punto di vista tecnico-tecnologico l'avvento delle nuove tecnologie crea un continuo bisogno di competenze, competenze che non sempre le aziende riescono a soddisfare nel momento perché siamo ancora molto legati a questo concetto italiano se vogliamo che per colmare un gap di know-how dobbiamo fermare la produzione. Adesso ritorno un po' a questo concetto un po' industriale, però c'è ancora questo mindset OO, il capitale umano non visto come un investimento che genera produttività ma visto più come un costo e questo è un limite. Certo, delle ricadute inevitabilmente. Quindi l'azienda sta reagendo anche con i restanti esempi. Il fenomeno degli ETS in ascesa è una cosa che aiuterà tantissimo nei prossimi anni. Sicuramente da un punto di vista tecnico e anche soft assistiamo ad una necessità a volte in capo alle aziende di formare o riformare quelle competenze che non si trovano pronte all'uscita dei sistemi educativi. Quindi parlo anche di competenze relazionali, competenze sociali che molto spesso i giovani oggi lo testimoniano i vari invalsi, le varie statistiche dei vari test PISA che si fanno in giro per il mondo su scala globale. Abbiamo anche una necessità aziendale di colmare un gap di competenze soft per non solo saper fare ma proprio anche sapere, sapere essere e sapere abitare l'azienda in una maniera anche agile rispetto a quelle che poi sono le dinamiche dell'evoluzione del lavoro. Certo, credo che sia molto interessante tutto questo perché è evidente che quando si parla di lavoro si parla di competenze a 360 gradi, è interessante proprio questo lato relativo anche all'aspetto più umano, più relazionale perché c'è una formazione che può essere perfezionata, che può partire dalla scuola come giustamente diceva la dottoressa, si possono seguire corsi, si può investire sulla formazione ma c'è un lato appunto quasi innato che è quello più relazionale e che può essere affinato nel corso del tempo affinché anche nel mondo del lavoro poi questo possa avere i suoi vantaggi. Quello che è evidente dalle vostre osservazioni è che sta cambiando fortemente in primis la concezione che si ha del lavoro e qui mi rivolgo a tutti i miei ospiti perché con la caduta delle ideologie il mondo del lavoro, il lavoro in sé ha perso un orizzonte di valori che invece a lungo ha portato con sé, che a lungo aveva in qualche modo radicato e in questo modo è evidente che anche semplicemente rispetto a una decina di anni fa il lavoro è diventato meno importante nella vita come fattore di identità e di espressione personale. In questo senso dicevo la concezione del lavoro cambia completamente. Ecco, secondo il vostro punto di vista quali sono quindi le ricadute di questo nuovo scenario? Comincio con il dottor Lombardo e poi a seguire. Ma allora principalmente è cambiato anche l'approccio al lavoro nel senso che le aziende che si occupano appunto di ricerca personale, i char e comunque vanno a caccia di quelli che vengono chiamati oggi talenti, si trovano davanti a uno scenario completamente diverso. Cioè non c'è più l'ansia di chi deve entrare nel mondo del lavoro di prendere il primo lavoro che passa e dire almeno prendo lo stipendio e vado a... In realtà l'ansia è dell'azienda che deve trovare personale perché se tu non offri determinate cose che oggi sono essenziali ed è proprio quello, un bilanciamento tra vita privata e lavoro, l'azienda deve essere sostenibile, deve garantire tutti i valori a cui la generazione, quella giovane di oggi crede e quindi non andrà mai a lavorare in un'azienda che non crede in questi lavori. E diventa più difficile anche trovare le persone giuste perché poi, sì, parliamo di salario minimo, ma io non sono un economista e quindi dico magari delle bestialità incredibili, ma io personalmente, come sensazione mia, non vedo il salario minimo che vada d'accordo con la contrattazione collettiva. Nel senso, o salario minimo, allora partiamo da un altro discorso, benissimo il salario minimo perché sappiamo che l'azienda deve partire da quella cifra per offrire il suo stipendio, però non può essere ingabbiato dentro altre regole che fanno diventare il salario minimo per l'azienda un costo insopportabile, perché poi noi possiamo chiedere a un'azienda di pagare un dipendente 9, 10, 11, 15 euro all'ora, ma se poi non sta in piedi il lavoro non c'è più. Quindi è tutto un sistema completamente da rifondare, da rifare, partendo, lo abbiamo detto l'ho accennato anche prima, dal mondo educativo e da chi insegna, da chi fa formazione, perché anche lì si parla tanto di formazione e si rischia poi di arrivare a dire che la formazione è una cosa importantissima che uno fa, vabbè, vado a fare formazione, ma in che modo? Cioè formazione non è entrare in un'aula per due ore far vedere slide e poi andare a casa e dire bene ho portato a casa la giornata, non è così. Formazione Certo, anche perché in realtà non resta niente se è semplice. Formazione è fare formazione davvero, insegnare i ragazzi universitari che uscendo da lì, se si comportano anche in determinati modi, non troveranno un mondo del lavoro che li aspetta e questo è molto complicato, cioè la formazione oggi non è solo insegnare quattro nozioni, dire bene avete imparato, adesso andate, ma è anche guidare chi entra nel mondo del lavoro che tutto è cambiato, che sono cambiate molte prospettive, che anche le richieste che magari un ragazzo di 20-21 anni pensa di poter fare, magari deve anche un po' imparare a mediare, che la vita, perché a 20 anni tu sei giovane, purtroppo non più, ma anch'io quando avevo 20 anni pensavo che il mondo dovesse andare come dicevo io perché avevo 20 anni e il mondo era mio, guarda sti vecchi cosa vogliono. Però poi dopo in realtà ci sono dei meccanismi che sono assolutamente umani, che non cambiano, cioè i pregiudizi esistono sempre, esistono magari in modo diverso, ma esistono sempre. Quindi non si può affrontare l'ingresso del lavoro dicendo beh io faccio quello che voglio perché sono giovane, la generazione è cambiata, oggi si parla di altri valori, entro in azienda e faccio quello che decido io, non è proprio così. Meglio non farlo. Meglio non farlo, no? Quindi il discorso è proprio quello, cioè è come un po' un allenamento, dovresti allenare le persone che entrano nel mondo del lavoro ad entrare con competenza, ovviamente, con una preparazione anche diciamo sociale, psicologica, non so come chiamarla, no? Un'attitudine al lavoro sapendo che ci sono grandi vantaggi perché quando noi siamo usciti dall'università i lavori erano quelli. Cosa fai? L'avvocato, ok, i miei genitori tutti e due avvocati, quindi io non ho fatto l'avvocato ma la strada che potevo prendere era quella. Il medico, l'infermiere, l'insegnante, vado a lavorare in banca o vado a lavorare in azienda. Arriviamo forse a dieci, non so, a dieci strade. Oggi le strade sono infinite e tra l'altro se ne stanno accorgendo anche quelli che, perché ci sono ragazzi che escono dall'università con grandi competenze, per esempio nel mondo della gestione dei dati, che magari entrano, io conosco di ragazzi entrati in azienda che si accorgono che in realtà proprio per quel modo di voler fare è molto più utile lavorare fuori da esterno perché invece di lavorare per un'azienda sola, lavori per tre o quattro aziende, guadagni molti più soldi, la tua vita la controlli tu e quindi anche il discorso del lavoro precario è cambiato. Il lavoro precario è quasi ingiusto dirlo perché ci sono lavoratori precari che sono quelli deboli, ma io che adesso sono libero professionista sarei, in teoria sarei anch'io un precario perché non so cosa mi succede domani mattina se la persona per cui lavoro non mi rinnova il contratto. Quindi è proprio una questione di mentalità che andrebbe cambiata. Chiaro, beh, torniamo al discorso della mentalità di sicuro e appunto anche alla concezione del lavoro che cambia perché, lo dicevamo inizialmente, un tempo si entrava in azienda e si restava per tutta la vita. Adesso è completamente cambiata la situazione e le prospettive anche professionali, lavorative, sono pressoché infinite, direi che è evidente. Quindi passo a questo punto la parola alla dottoressa Vernero per avere il suo punto di vista. Vi do un punto di vista breve e positivo perché secondo me è anche interessante da un punto di vista sociologico anche vedere culturalmente anche come questo fenomeno farà anche cambiare il nostro modo di vivere il lavoro. Ho letto recentemente un articolo in cui su questo tema si diceva come se ci fosse una nuova contrapposizione tra l'etica del lavoro e l'etica del tempo libero, però è sempre etica. Quindi nel senso che non c'è più l'identità attraverso il lavoro, non è più la sola identità, ce ne sono molte e ce ne sono molte nel corso della vita lavorativa. Quello che a me suggerisce un po' questo fenomeno che hanno portato, che fondamentalmente nasce con l'entrata al lavoro dei millennial, perché sono la generazione 80-90 che ha iniziato a sviluppare questa idea di carriera non necessariamente in ascesa, mettiamola così, però ha in sé un tema culturale interessante secondo me su due fronti. Da un punto di vista, diciamo anche di modo di vedere la vita, si assiste a questo fenomeno della perdita di centralità del lavoro in termini identitari, sta diventando qualcosa di molto poco divisivo per genere, cioè è qualcosa che abbraccia le nuove generazioni e i generi, quindi non sto dicendo che questo porterà ad accelerare le tematiche sul divario di genere, parità salariale eccetera, però sta diventando e sta cambiando il modo in cui i uomini adulti vedono anche il proprio tempo fuori dal lavoro, come utile per la crescita umana, familiare eccetera, quindi in questo senso questa democratizzazione anche del senso del lavoro aiuterà secondo me anche molto nel vivere la prospettiva lavorativa in maniera diversa. L'altra cosa agganciandomi un po' ai contributi di prima, è vero, il lavoro per la vita non esiste più, non si entra più commesso con l'ambizione di diventare direttore di negozio, ci sono tante carriere, tanti percorsi che si possono studiare, che si possono progettare, lato azienda io la vedo veramente come una grande ricchezza, che è un po' quella della contaminazione, cioè se smettiamo, se provassimo a smettere di vedere questa perdita di centralità del lavoro come un disvalore, ma provassimo a rivedere anche noi il modo con cui le nuove generazioni si approcciano al lavoro, cioè l'azienda è un progetto che può durare due anni, tre anni, quattro anni, sicuramente non dura vent'anni, non dura trent'anni, non dura tutta la vita, però questo ha un'enorme fatica, nel senso che effettivamente in termini di profondità delle competenze apre una serie di difficoltà, fatiche, lavori anche lato azienda, ma da un punto di vista di contaminazione, se io penso anche rispetto a quando ho iniziato io a lavorare, quanto frequente e quanto è bello, attraverso queste anche scelte culturali delle nuove generazioni, riuscire come azienda ad arricchirci in termini di percorso professionale, anche grazie al fatto che i millennial, insomma, le nuove generazioni vivono la progettualità del lavoro come qualcosa in cui io do nella misura in cui quel progetto mi racconta, significa per me, l'azienda comunque può ricavarne in termini di bilancio, diciamo così, personale, un vantaggio perché è quello proprio del vantaggio del confronto e della contaminazione, non della profondità, cioè i maestri di mestiere sono un po' finiti in termini proprio di mondo del lavoro, ma da un punto di vista di contaminazione, di integrazione anche di competenze e discipline, io la vedo come un'opportunità da non sottovalutare, giusto ogni tanto per vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se non è sempre così facile. No, ma dicevo giusto precedentemente che è bello, è corretto, è una fortuna che si possano avere anche delle prospettive positive, ottimistiche e anzi è interessante avere questa prospettiva interna all'azienda e notare anche l'arricchimento che tutto questo può dare, che la contaminazione a cui faceva riferimento può dare, perché da esterni quando magari non si è nei piani alti dell'azienda, non si conoscono le dinamiche, non si riesce ad avere una visione concreta di quello che può essere un arricchimento per l'azienda, invece il suo è stato uno spunto prezioso in questo senso. E quindi passo all'avvocato Failla per avere anche da lei un punto di vista sul tema. Ma indubbiamente l'etica del lavoro, del sacrificio, legata anche a un tema di ascensore sociale che funzionava, entravi a livello basso, sapevi che se ti mettevi pancia a terra, un giorno tutto questo sarà tuo. E avveniva, oggi non è più così. Oggi puoi anche, come dire, c'è un tema di meritocrazia, c'è un tema che sappiamo, quindi puoi anche sgobbare tanto e non è detto che l'azienda lo riconosca. Quindi i pezzi di strada insieme sono sempre più corti, un anno, due anni, tre anni il progetto. Se il progetto mi ingaggia ci sto, altrimenti, altrimenti no, altrimenti scelgo, seleziono. Io imparo tanto dai miei Dante Causa, che sono i responsabili del personale, con cui lavoro ormai da più di trent'anni, una grande azienda italiana, una delle poche aziende ancora italiane con un brand bellissimo, non faccio nomi, ma famosa nel mondo, mi diceva, sai, noi facciamo i colloqui con questi ragazzi, no, i millennials che sono gli 89, i miei figli sostanzialmente. E la domanda che mi fa, la domanda delle domande non è quanto guadagno, no. L'unica vera domanda che mi fanno è, ma io devo venire a lavorare in ufficio? E questa è l'unica domanda. Dici, beh, sai, gli uffici sono qui, ma devo venire tutti i giorni? E questa è la domanda, cartina torna sole, perché se sbagli lì l'hai perso. E loro si stanno attrezzando, grandissima azienda italiana, si stanno attrezzando, ma come tutte le aziende, devi fare i conti con queste professionalità. Se vuoi queste persone, sei tu che devi cambiare, perché loro non cambiano. Loro non cambiano, ti dicono di no. Se tu gli dici, devi venire tutti i giorni, loro ti dicono ciao. E infatti oggi discutiamo, da settimana corta, di cinque giorni, di quattro giorni, di tre giorni, di remote working, perché stiamo lavorando su questi modelli? Non solo perché c'è stata la pandemia, e vabbè, la pandemia siamo stati obbligati a farlo, ma stiamo lavorando su questi modelli perché altrimenti perdiamo le persone. Non le attreiamo, non ci stanno. Questi vanno via, non lavorano, e troveranno qualcuno che gli offre questa cosa, perché i modelli organizzativi stanno cambiando. Quindi questa è la nuova, hanno messo al centro, e secondo me è anche giusto, da un certo punto di vista, hanno rimesso al centro le loro vite. Puoi digli di no? Come fai a digli di no? E la valutazione, l'importanza della valutazione del prodotto e non del processo. L'importante è che lo fai, ma non come lo fai. Benissimo, e sappiamo anche che non ci sarà la retention per tutta la vita. Lo dobbiamo sapere, lo sappiamo, ma lo so io, voglio dire, anche delle categorie dei servizi lo sappiamo, tutta la vita non esiste più, per tutta la vita, non esiste più. Esiste per un pezzo di strada, per un progetto che può essere ingaggiante, un anno, due anni, tre anni. Questo ci si arricchisce a vicenda, c'è uno scambio, c'è uno scambio, io investo sull'azienda, ma l'azienda deve investire su di me. Se l'azienda non investe su di me, io non ci sto. Io non lo faccio questo solo per prendere lo stipendio. Poi qualcuno potrà dire, sì, è facile così, perché tu vivi in casa, perché tu sei mantenuto, perché c'è tutto una... Lasciamo perdere le risposte. Sì, perché? Però questa è la realtà con cui le aziende si devono confrontare. Io parlando con gli HR mi dicono, noi stiamo cambiando, stiamo cambiando noi, perché altrimenti non riusciamo a ingaggiare queste persone. E queste sono persone che comunque portano dei valori. Quindi io credo l'etica del lavoro come la conoscevamo noi 20-30 anni fa non esiste più, ma non esiste. Sarà sempre più un'etica di questo tipo, dove al centro la vita privata, al centro la mia vita privata, il mio progetto, che non è il progetto edonista, non necessariamente un progetto edonista da influencerino con i soldi facili. No, no. Il progetto con i miei valori, con il mio sistema valoriale della mia vita. Perché queste persone, questi ragazzi, hanno le idee chiare. Chiare sul cambiamento climatico, sul sistema di valori sociali, sull'inclusione. C'hanno tutto un sistema loro, cioè non sono menefreghisti. Cioè non è gente che prende i soldi e poi dopo vuole andare in discoteca e basta. Non è così. Non è così. Quindi io credo che le aziende si stanno attrezzando, dovranno attrezzarsi sempre di più. Quindi è un grande cambiamento epocale. Poi le regole del diritto del lavoro seguono, seguiranno gli schemi. Io mi ricordo dieci anni fa mi raccontavano aziende della Silicon Valley, dicevano, ma noi qui abbiamo i tavoli da ping pong, i bigliardini, che adesso ci abbiamo tutti, no? Dieci, quindici anni fa dicevano, i bigliardini, i ping pong. Abbiamo la sala relax, il divano, la televisione. Io le ho viste, lavorando in un'azienda grosse nel nord Europa, le ho viste vent'anni fa, no? Dove i lavoratori potevano andare lì, staccavano dal lavoro, andavano lì, si rilassavano. Potevano mangiare, invece c'era il frigo, ci apprendevano, cos'altro. E dicevano, madonna, questa è una cosa incredibile. No, perché noi crediamo nel well-being, nel benessere, eccetera, eccetera. Sono sempre più investimenti, no? Sono sempre più investimenti. E alla fine credo che sia questa la formula. Anche perché se rendi un posto di lavoro, un bel posto dove stare, invece di stare a casa uno, magari ci viene anche tutti i giorni. È vero, è vero, è vero, è vero, anche se poi c'è il rovescio della medaglia. Dicevamo, chi fa il progetto non sarà per tutta la vita. Chi è per tutta la vita, in realtà, lo vedo adesso, è quella fascia di professionalità che non riesce a offrire altro. E quindi sta lì tutta la vita, poi allora diventa un fardello. Perché diventa quel fardello di quell'azienda, lo zoccolo duro di gente che non cambia. Sono quelli che sono dentro da 10, 15, 20 anni e dove vanno? Cosa fanno? Perché non si riqualificano, non fanno lo switch per mettersi in gioco. E quelli lì sono quelli che ti porti avanti e diventeranno un fardello. Perché da un lato c'è il tema della retention, del mantenimento, dell'investimento. Però poi da un lato può diventare in alcuni casi un fardello. Allora lì c'è un tema che devi accompagnare alla pensione. Se sono con te da 20 anni te li devi tirare dietro, no? E c'è un tema di come aiutarle ad andare in pensione. Prima per far posto, come dire, a un cambiamento anche di professionalità. Certo, un cambio generazionale di cui tanto si parla. Ma penso che sia veramente esaustivo il notare come non sia più tanto il lavoratore ad adattarsi all'azienda pur di avere un posto, quanto l'azienda che si adatta delle esigenze un tempo quasi impensabili. Cioè abbiamo a lungo parlato di una mentalità difficile da scalfire, di una mentalità radicata e quindi insomma cosa è una battaglia persa poterla modificare. Eppure se una volta c'era l'idea di una normale settimana da cinque giorni a lavoro, orario d'ufficio 9-18 per la maggior parte delle aziende, ecco la realtà è nettamente diversa e non è una forma di egocentrismo in effetti, ma è semplicemente un voler rimpossessarsi del proprio tempo libero, della propria vita, di un momento per sé, per saccare, per godere di qualcosa che sia altro dalla frenesia quotidiana, da quella velocità imperante alla quale facevamo anche in precedenza riferimento. E in tutto questo, per aggiungere un po' a un altro tassello chiave del discorso, si palesa ancora il discorso della formazione che resta ancora in parte un mistero, la sua efficacia resta in parte un mistero, ma la formazione professionale è fondamentale in una realtà comunque molto frammentata, tra competenze diverse a livello nazionale, regionale e provinciale. Eppure per i lavoratori e al contempo per le aziende resta fondamentale, altrettanto importante, insomma, restare al passo con i tempi e quindi colmare i gap con gli altri paesi per riuscire ad essere competitivi, naturalmente anche per dare ai propri lavoratori delle maggiori garanzie, delle maggiori sicurezze. Ecco, è possibile farlo? Come si riesce a raggiungere questo obiettivo? Quali sono le strategie? Il tema è la formazione continua, nel senso che va inculcato nel lavoratore, ma anche nella testa delle aziende, che oggigiorno il lavoratore ha bisogno di una formazione continua, che vuol dire che anche a 50 anni deve essere formato, anche a 60 anni deve essere formato. perché comunque, invece, molto spesso, diciamo, noi veniamo da una generazione per cui se c'era da fare un corso durante l'orale di lavoro, il lavoratore dice, ah che barba sta roba, e l'azienda dice, ma no, ne devo dare due ore perché che perse di lavoro per questa roba qui. Invece il discorso è che la formazione oggi fa parte del processo di lavoro, perché le cose, come abbiamo detto prima, cambiano, cambiano in fretta, stanno cambiando, e cambiano sempre più in fretta, perché man mano che l'intelligenza artificiale fa i suoi calcoli e continua a farli sempre di più, si accorciano i tempi in cui il cambiamento verrà fatto, e bisogna stare dietro a questo cambiamento. Quindi il primo cambiamento è la mentalità, no? Dire la formazione non è esco dall'università, faccio un corso di formazione e poi dopo vado a lavorare per tutta la vita, no? Faccio un corso di formazione e l'azienda dice, io devo fare ai miei dipendenti ciclicamente dei corsi di formazione, a tutti e per sempre, perché questo è il vero affrontare quello che sarà nei prossimi anni, perché stanno cambiando le leggi, stiamo cambiando i regolamenti. Prima si parlava di studi, che ovviamente sono una parte importante, si fanno tanti studi, studi economici, studi lavorativi, però io mi ricordo nel 2019 quando si facevano gli studi e si diceva lo studio dice che il PIL aumenterà, crescerà, scenderà, salirà, la ricchezza nei prossimi, entro il 2025 faremo. Dopodiché abbiamo avuto una pandemia mondiale, due guerre e adesso quando mi vengono a dire, no lo studio dirà che nel 2030, uno dice, sì, va bene, speriamo, sì, giusto essere preparati, ma bisogna anche essere preparati al fatto che qui le cose ormai cambiano di giorno in giorno. E quali sono le fondamenta? Questa è tipo la formazione, formazione continua, adeguarsi a come cambia il mondo del lavoro, adeguarsi a come cambiano le cose, la tecnologia, e quindi ogni tanto, ma spesso, ripresentarsi e dire, bene, abbiamo imparato questo, ma adesso c'è un'altra cosa, come cambiano le regole, come cambieranno le leggi, perché inevitabilmente nel mio lavoro il contratto nazionale di lavoro ai giornalisti è fermo, mi pare, al 2016, e parla di cose che non esistono più. Non sono passati tanti anni, ma tra altri otto anni saranno già cambiate tre volte queste cose qui. Quindi bisogna ragionare anche su questo modo di muoversi. Certo, in qualche modo adattarci a un mercato in cambiamento, a una realtà lavorativa così fluida, così in divenire. Quindi anche alla dottoressa chiedo, insomma, qual è il suo parere a riguardo? Ma sicuramente formazione continua in diversi modi, nel senso che ritornando alla metamorfosi anche delle aziende, dei dipartimenti HR e non solo, rispetto a questo tema, visto che la sfida è attrarli i talenti, trattenerli, trovare le competenze tecniche, eccetera, quello che dobbiamo anche continuare a ripensare sono le occasioni di formazione. Le aziende, anche negli ultimi anni, in questo è molto utile pensarsi non come Italia, ma come mercato che compete con una serie di paesi su cui, insomma, potremmo rubare con orgoglio, diciamo così, perché il corso di formazione, la necessità della formazione, significa anche ripensare alle modalità. Quindi tutto quello che in questo momento anche sta emergendo, magari lentamente, per il nostro modo di pensare alla formazione, qua ritorno a parlare di Italia, però, parternariati con le scuole, occasioni di scambi, anche con altre imprese, stanno accadendo anche in alcuni tessuti industriali, veramente delle partnership tra aziende apparentemente in competizione, che però hanno lo stesso obiettivo, per esempio, formare o attualizzare le competenze dei loro lavoratori. Quindi da questo punto di vista ci sono già tanti esempi dentro l'azienda. Poi sul sistema scolastico sicuramente tocchiamo un momento di profondità anche dopo. Da un punto di vista aziendale ci sono azioni e ci sono strumenti che possono, anche in maniera molto più granulare, molto meno ritualizzata di un corso di formazione, aiutare le persone non solo a rimanere a passo coi tempi, ma a capire, perché il tema delle generazioni al lavoro, il cosiddetto vecchio zoccolo duro, che in certi ambiti è un po' una zavorra, e dare anche il senso di urgenza. Cioè la formazione non può più essere il fastidio che ho tra una riunione e l'altra, o tra la produzione di un output e l'altro. È un fattore di competitività. E questo, al di là del fatto che investire in capitale umano, lo dicono tutte le ricerche, soprattutto se si investe in età giovanile, quindi non parlo delle aziende, parlo del sistema educativo, è il primo predittore di competitività d'impresa, significa anche però risvegliare un po' le coscienze delle generazioni al lavoro, rispetto al fatto che devono avere veramente in testa che apprendere, quindi quello che dicevo prima dell'imparare e imparare, è un must, cioè non può più essere l'opzionale, è una cosa che ti rende o meno occupabile. E quindi da questo punto di vista è un po' anche una logica di ripensare KPI. Prima l'Avvocato Failla mi ha suggerito un tema, cioè continuiamo a preoccuparci di trattenere le persone, ma insomma la provocazione che mi sto facendo in questo momento con voi è, ma ha ancora senso darci come direzione HR i KPI dell'attrition, cioè delle persone che lasciano l'azienda, non ha più senso investire su dei KPI più legati a delle attività di formazione, di misurazione delle competenze. Secondo me dobbiamo andare più verso questa logica, perché altrimenti in termini proprio globali, l'azienda che non forma e che non investe in formazione, perde qualificazione, non attrae mano d'opera qualificata e in termini di proprio panorama competitivo rischia di perdere ogni partita. Posso dire che la formula potrebbe essere meno riunioni e più formazione. Quella della riunione è una tavola rotonda separata. Probabilmente sono tutti d'accordo, quindi... Beh, a questo punto passo la parola all'avvocato Failla. No, beh, certamente la formazione è un must a questo punto. Il tema è, l'azienda l'hanno capito, cioè nel senso che poi c'è la difficoltà di dove metterla, eccetera, l'hanno capito le risorse umane, poi è più difficile magari trasferirlo alla linea, no? Più si scende o più ci si allontana è più difficile spiegare al responsabile di un reparto o di una linea che deve lasciare formare le sue persone perché è una cosa che aiuterà l'azienda e anche la sua attività. Questo è un po' più difficile. Ma perché è difficile anche per chi fruisce dalla formazione. Io che sono un lavoratore dell'azienda, l'idea che io mi debba formare, perché avvantaggia me, nel senso che io ogni due o tre anni dovrei fare un corso o comunque dovrei rivedere le mie competenze. È una cosa che deve entrare... Se mi entra in testa poi diventerò affamato di formazione perché capisco che quella è la mia, come dire, carta jolly che mi consente di essere competitivo. Per quest'azienda o per altre aziende? Però questa è, si allarga un po' un ragionamento sul nostro paese dove il tasso di imprenditoria giovanile è molto basso rispetto ai nostri competitor europei perché noi abbiamo l'idea... Vado lì, c'è il posto, fine. Una volta si diceva vado in banca e sono a posto. Adesso non è anche se vai in banca, da parte che non ti prendono, ma se ti prendono non sei a posto comunque uguale. Ma c'è un po' la mentalità e lì c'è un tema di famiglia, lì c'è un tema di... Si allargherebbe un discorso sociologico della nostra società. Ci rimaniamo in casa fino a 30 anni e in Danimarca a 18 anni ti buttano fuori di casa. Ci sarà una differenza? Poi la risposta è ma qui in Italia, gli affitti, eccetera. No, il tema è un altro. Il tema è che rimango, come dire, in una zona... Una zona di comfort. Ecco, l'uscire dalla zona di comfort. Questa potrebbe essere... Anche questa è una chiave, uscire dalla propria zona di comfort. Allora, io credo che la formazione è certo che sì, però vanno cambiati, come dire, gli elementi che portano a fruirne. E fruirne... Cioè, rinnovato il contratto metalmeccanico recentemente, ha detto, abbiamo inserito una cosa bellissima, la formazione. Bellissimo, fantastico. L'obbligo della formazione, bellissimo. Poi però la devi mettere a terra. Devi lasciare che le aziende la facciano la formazione e devi lasciare che i lavoratori siano interessati e abbiano voglia di farla. Che non sia solamente il fatto che io ho due ore e non lavoro e sono pagato uguale. Cioè, mi ricordo, quando c'era il contratto di formazione a lavoro, di vecchia, non memoria, no? Prendevamo i ragazzi tra i 18 e i 20 e i 30 anni e c'erano i due anni di formazione, costavano meno, ma l'azienda doveva... Era obbligo. Come l'apprendistato oggi, sostanzialmente? Quella era un'enorme rottura. Un'enorme rottura per l'azienda. Beh, dice, ma perché devo perdere tempo? Lo pago, lo pago e devo... E non ce l'ho lì che lavora perché lo sto formando, ma era lo scambio, paghi di meno, hai meno contributi, costa di meno, eccetera. Allora, quanta discussione è stata fatta? Perché l'apprendistato non funziona come dovrebbe in Italia? Perché c'è questo tema, che la formazione è una roba... Ok? La dobbiamo fare. Sì, anziché essere magari vista come una risorsa e a volte vista come un fardello, appunto, per tornare al nostro discorso. È così, è così. E quindi deve cambiare... Allora, molte aziende hanno già cambiato l'approccio, evidentemente, le aziende di matrice nordamericana o nord europea, questa cosa l'hanno capita molto bene. Le aziende italiane, medio-grandi, l'hanno capita bene. Il problema è il tessuto italiano. Il tessuto italiano non è fatto da multinazionali. Il tessuto italiano, il 90%, è fatto di aziende e piccole imprese. E lì vai a spiegare all'imprenditore che ha 20, 30, 40, 50 dipendenti che lui deve lasciare che i tuoi dipendenti vadano a fare la formazione fuori azienda. Spiegaglielo. Quella è la grande scommessa. Chiaro, sì. Qua si parla davvero di una filosofia quasi radicata e di conseguenza non così immediata da cambiare proprio perché il nostro mercato, la nostra economia è sicuramente tappezzata principalmente da piccole e medie imprese. Quindi, insomma, impiantare poi una mentalità da multinazionale non è così scontato, anche se è sicuramente positivo recepire delle spinte più al passo con i tempi, direi. A questo punto, per concludere la nostra riflessione in maniera quasi un po' ostimorica, vorrei tornare all'inizio del discorso, dal nostro titolo I problemi del lavoro nel mondo che cambia. Se dovessimo provare a tracciare uno scenario futuro, secondo voi sarà caratterizzato più da opportunità, più da problemi, da rischi? Cominciamo con il dottor Lombardo. Insomma, è difficile dire, nel senso che sono tutte cose che ci sono sempre state, opportunità, rischi, in tutto. Il lavoro è un mondo in cui il rischio è il rischio di impresa, cioè proprio fa parte del mondo del lavoro, quindi è normale che ci sia. Il problema fondamentale è invece, secondo me, fare proprio un discorso nel complesso, cioè veramente la grande rivoluzione, perché se noi vogliamo che questo Paese funzioni e non continui a mettere i cerotti, cercando di lenire qualche piccolo dolore, metto il cerotto, sì, dai, poi ti passa, però poi se non guariamo tutto il resto siamo sempre lì a mettere i cerotti. Bisogna fare proprio un discorso complessivo, si parlava prima della scuola, che c'entra, sembra che non c'entri mai, ma c'entra. Bisogna cambiare il metodo scolastico, bisogna cambiare, fare formazione nei professori, negli insegnanti, in chi fa formazione, e cambiare la mentalità delle migliaia di aziende che ci sono nel nostro Paese, che sono una ricchezza, ovviamente, che affrontano un grande rischio, perché comunque aprire un'impresa è un grande rischio, ma che pensano ancora che il lavoro è avere appunto 20, 30, 40 dipendenti, tutti lì, che devi controllare, perché non ti puoi fidare, cioè bisogna cambiare anche il rapporto di fiducia tra chi fa impresa e chi lavora, ma deve essere reciproco, nel senso, non che io faccio impresa e non mi fido di te e ti controllo e io che lavoro ti frego perché tu mi devi pagare, ma io voglio fare meno, cioè è proprio un discorso molto, una rivoluzione sociale, cioè noi parliamo di rivoluzione tecnologica, ma se non cambiamo la rivoluzione, facciamo una vera rivoluzione sociale, come si fa? E' questo facile dirlo, molto difficile farlo, anche perché purtroppo oggi, da dove dovrebbe partire, cioè dalla politica, siamo all'epoca del bar sport, cioè se io dico bianco tu dici nero e se io dico nero tu dici bianco. Sì, pura lotta, forse poca collaborazione. Appunto, si aprono degli scenari, abbiamo parlato prima del salario minimo e si parte, se la polemica vogliamo il salario minimo, non vogliamo il salario minimo. C'è una terra di mezzo che non affronta mai nessuno. Ieri parlavo con dei colleghi, parlavamo della storia dell'autonomia differenziata, nessuno di noi in realtà ancora ha ben capito quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi, quali sono le risorse, quali sono i problemi, perché non se ne parla. Si dice solo, si vuole spaccare il paese, no, entriamo nel futuro. qualcuno che nel mezzo spieghi cosa sta succedendo, se ci sono dei correttivi da fare, se è un'opportunità, se effettivamente visto che il federalismo è nello scenario di modi di governare i paesi, quello in cui più o meno ha funzionato forse meglio degli altri, quindi potrebbe funzionare anche da noi, non si sa. questo si riverbera a tutto, noi parliamo di lavoro, ma si riverbera in tutto, perché oggigiorno non si riesce a fare una discussione, se io dico una cosa troverò magari qualcuno fuori di qui che mi dice cosa hai detto perché deve dire il contrario, ma possiamo trovare anche una via di mezzo, i latini dicevano in medio stat virtus, siccome si piglia, visto che li studiamo tre volte, magari, probabilmente avevano ragione, magari avevano ragione, poi anche loro hanno avuto i loro problemi, non è che sono andati poi a finire bene, perché ovviamente ogni epoca poi ha la sua decadente, però se vogliamo prendere le cose migliori anche del passato per fare che diventino migliori per il futuro, forse dovremmo ragionare, quello che dicevo prima agli stati generali, forse bisognerebbe cominciare a trovare persone che mettano la testa nelle loro differenze per trovare una sintesi. A questo punto, dottoressa Venero, chiedo anche a lei se ci sono più rischi, più opportunità, se è una via di mezzo in qualche modo. Mi viene da citare Gramsci, cioè combattere il pessimismo della ragione con l'ottimismo della volontà, ma il senso è questo, nel senso che da un punto di vista italiano, l'abbiamo detto prima, i numeri, insomma, il dato puro del numero della statistica ci raccontano un fenomeno che è inarrestabile e non è necessariamente positivo, no? Questo invecchiamento della popolazione, fenomeno giovanile che non lavora, non studia, non è qualificato, eccetera. Quindi, questo è una corrente che è destinata a non esaurirsi da sola. Dall'altra parte, l'ottimismo della volontà che cosa vuol dire? Che, ecco, su questo, insomma, sono molto d'accordo con quello che è stato detto prima, nel senso che quello che manca è una riflessione programmatica, quindi, non basta l'azienda che in maniera solitaria ma proattiva si inventa un modo di rendersi appetibile o di rendere employable le loro persone, ci vogliono degli stati generali, adesso ripeto quello che è già stato detto, sicuramente si deve fare sistema, ecco, in questo abbiamo altre qualità in termini culturali, sicuramente la capacità di fare sistema e creare un programma, un programma davvero di lungo termine che vada a toccare anche tutti degli aspetti demografici che vuol dire toccare l'età pensionabile, toccare il lavoro immigrato, cioè vuol dire toccare tanti aspetti che arrivano anche necessariamente al mercato del lavoro, ecco, finché non prendiamo una coscienza politica vera, non fatta di proclami o di progetti, come dicevamo prima, progetti a medio o brevissimo termine, ho paura che non sarà molto un'opportunità, sarà un po' una trappola. Sì, io sono pessimista, ovviamente su questo non ho l'ottimismo della volontà, sono pessimista perché manca questo, manca l'idea di fare sistema, cioè altri paesi quando hanno fatto la riforma in Germania, sono messi lì e hanno detto cosa ci serve fra 10, 15, 20 anni, cosa serve? Cioè, qualcuno dovrebbe sedere, mettere attorno al tavolo gli attori e dire partendo dalle aziende perché il mercato del lavoro è il mercato di quello che le aziende potranno chiedere e offrire alle generazioni, quindi partiamo da lì, cioè, se i posti che chiederanno saranno di ingegneria dobbiamo lavorare sulle facoltà STEM, se non richiederanno filosofi, abbiamo un problema con i filosofi, certo che avremo un problema con i filosofi, dovremmo dire a tutti quelli che scriveranno filosofia, ragazzi sappiate che lavoro per voi qui in Italia non c'è, io da piccolo devo fare l'archeologo, sono venuto a farlo avvocato, io sognavo di fare l'archeologo e mi dicevo guarda che l'archeologo è difficile perché sai, come fai, non è che, come c'è, i miei genitori terrorizzati, no, dicono ma no, devi andare in banca, c'è che fa l'archeologo, no, non l'astronauto, il pompiere, no, volevo fare proprio quello che mi piaceva, quindi il tema è mettere a sistema, non lo sta facendo nessuno, ma noi siamo un paese di conflitto, di polarizzazione, di bianchi o neri, di guelfi e ghibellini, autonomia differenziata, cosa sia nessuno lo sa, siamo contro o a favore a prescindere, ma cosa sia veramente e cosa comporterà, aumento dell'età, aumento dell'età generale, della, si è stato detto prima, noi non abbiamo medici e infermieri, cioè lasciamo che i nostri medici e infermieri vadano via, vadano all'estero, che sono pagatissimi, vanno in Norvegia, avete letto, vanno in Inghilterra, sono bravissimi perché gli italiani quando vanno fuori sul one to one vincono, cioè se ce la giochiamo one to one noi vinciamo, è come il sistema paese che facciamo schifo, in tutti i campi, cioè se noi pensiamo che è la più grande azienda al mondo, che è Apple, ha come amministratore finanziario in italiano. No, ma è così, il one to one noi vinciamo, quindi nessuno fa sistema, finché non faremo sistema il problema non lo risolvi perché sono tutti problemi connessi, il problema della professionalità, il problema della formazione, dovresti partire dalla scuola perché gli italiani, i ragazzi giovani si lavorano di meno, perché comunque i laureati noi li perdiamo, perché poi tu dici no, devi laurearti, certo che ti lauri, poi dopo le aziende cosa ti offrono? Un contratto da 1200 euro, no? contratto da prendistato da 1200 euro, allora io cosa faccio? Vado in Svizzera, vado in Germania, vado in Olanda dove mi danno 2, 3, 4 mila euro e i figli di tutti gli nostri amici sono tutti all'estero, cioè i giovani che possono vanno all'estero, non vanno più in Inghilterra sono cambiati le destinazioni, quindi questo è, finché non ci mettiamo lì a vedere tutti i problemi che sono tutti connessi, è come avere una matassa di fili intrecciati, tu tiri un filo e ti si fa un nodo nell'altra parte, allora tu tiri, bisognerebbe guardarlo tutto insieme o arrivi con la spada e allora dici che lo taglio però non è una soluzione, quindi sono moderatamente pessimista. Beh, mi sembra anche corretto provare ad avere un po' entrambe le visioni, quelle più positive, più ottimistiche, quelle un pochino più pessimistiche, fa parte del gioco, fa parte di un futuro che sicuramente è fatto di problemi ma è fatto anche di opportunità. Abbiamo parlato di rivoluzione e probabilmente come tutte le rivoluzioni anche questa che sta riguardando il mondo del lavoro porta delle potenzialità da cavalcare, da conoscere, da abbracciare e dei rischi che bisogna affrontare e che talvolta non sono evitabili, bisogna scontrarsi e rialzarsi in qualche modo. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra disponibilità e per gli spunti interessanti. Grazie. Grazie a te. Grazie.